Quale dono hai avuto dalla nascita? Io non lo considero un dono. Vedo i defunti, vedo anche gli angeli. I defunti io li vedo fisicamente. L'angelo è un'energia molto più forte. A volte si fanno vedere con delle sfere di luce. Il mio angelo mi ha detto di sfruttare gli angeli. Perché se tu non chiedi, loro non interferiranno mai nella nostra vita. Mio padre è morto in questo incidente che io avevo un anno e mezzo. Io la prima volta che ho visto mio padre, penso di aver avuto due anni, in questa cascina dove loro abitavano, c'era una porticina che portava dietro al mulino. E io aprivo questa porticina di ferro, c'era mio papà su questa passerella di cemento, in fondo seduto di schiena con la sua divisa. Io andavo lì, giocavo con mio padre, parlavo, lo toccavo. Cioè era proprio un incontro fisico. I momenti in cui io avevo bisogno di lui, lui arrivava. E tu conosci l'amore totale. Perciò quello che hai in questa vita non è mai abbastanza.